Allora la nuova viabilità porta all'aeroporto di Genova, quindi rappresentanza dell'aeroporto l'avvocato Barbara Pozzolo, consigliere di Genova City Airport. Prego. Buongiorno a tutti, io vi porto i saluti del nostro presidente Paolo Done che è davvero dispiaciuto per non essere qui con noi in questa giornata così importante per l'aeroporto e per la città di Genova. Infatti grazie a questo nuovo viadotto il Cristoforo Colombo recupera l'accessibilità diretta dalla viabilità autostradale e da quella urbana, quindi da Cornigliano e dalla via Guido Rossa. In questi anni la nostra società e le istituzioni hanno puntato molto sul concetto del City Airport. Sappiamo tutti però che nonostante la posizione vicinissima rispetto al centro cittadino e baricentrica rispetto alla regione, in molti casi nell'utenza vi era la percezione di una certa difficoltà di raggiungere il nostro aeroporto. Per quanto questa percezione potesse essere paradossale data la posizione dell'aeroporto in alcuni casi non era del tutto immotivata. Con la realizzazione oggi di quest'opera possiamo considerare definitivamente superato questo orta ostacolo. È importante evidenziare come quest'opera non solo quindi sia importantissima perché ripristina l'accessibilità diretta al nostro aeroporto ma anche perché ha una campata di 75 metri che consentirà quindi di eseguire tutti quegli interventi che sono propedeutici per la realizzazione della prossima fermata ferroviaria aeroporto e zelli e questo sarà un ulteriore tassello che aiuterà il rilancio del nostro scalo. Questi interventi quindi a partire da oggi rendono e renderanno sempre più comodo spostarsi dall'aeroporto verso l'aeroporto con speriamo un notevole incremento del nostro bacino d'utenza che porterebbe quindi a una maggiore competitività del nostro aeroporto e lo renderebbe più attrattivo non solo per i viaggiatori ma anche per le compagnie aeree. Sempre per il rilancio del nostro aeroporto vi ricordo che nei prossimi mesi sarà completato l'ampliamento dell'aerostrazione e che proprio pochi giorni fa sono iniziati i lavori del terminal, di restyling del terminal. Voglio sottolineare che proprio per l'importanza che hanno questi lavori che sono un passaggio fondamentale per il rilancio del nostro scalo che è stato reso possibile grazie al supporto delle istituzioni e degli enti locali in particolare dell'autorità di sistema e della legione Liguria che ringraziamo ancora una volta per il supporto costante che ci hanno dimostrato e che quotidianamente dimostrano attestando l'importanza che attribuiscono all'aeroporto per la regione Liguria. Da parte nostra l'aeroporto si impegna a ricambiare questo supporto impegnandosi nello sviluppo della connettività aerea così importante per una regione come la Liguria e nel miglioramento del nostro terminal e di tutti i servizi connessi. Vi ringrazio ancora tutti quanti e vi saluto. Grazie all'avvocato Pozzolo. Grazie all'avvocato Pozzolo.